Possiamo classificare gli aborti, distruzioni del bambino non nato, in tre tipi. Aborto durante il primo periodo attraverso le pillole contraccettive, la pillola, la mini pillola o la pillola del giorno dopo e per mezzo dei vaccini, impianti, apparecchi intrauterini, la distruzione del bambino non nato legata alla fecondazione in vitro e la sperimentazione sugli embrioni o sui feti. Infine l'aborto durante l'ultimo periodo o attraverso mezzi chimici o chirurgici. Consideriamo ora i tipi di aborto e distruzione del bambino non nato uno alla volta. Contrariamente alla credenza popolare, la pillola contraccettiva, chiamata in maniera colloquiale come la pillola, ha la capacità di agire non soltanto come contraccettivo ma ha piuttosto la capacità di agire in tre modi distinti. La pillola può sopprimere l'ovulazione oppure può alterare il muco nel collo dell'utero, la cervice e ostacolare il passaggio dello sperma nell'utero, oppure ancora può agire sulla parete dell'utero e disturbare l'impianto dell'ovulo già fecondato, l'embrione. La terza maniera di agire è abortiva. La mini pillola, al contrario, ha la capacità di agire in due modi distinti. La mini pillola agisce sul muco nel collo dell'utero e sulla parete dell'utero. Questo riduce o previene l'impianto dell'embrione. La seconda maniera di agire è abortiva. La pillola postcoitale, la cosiddetta pillola del giorno dopo, ha ugualmente la capacità di agire in due modi distinti. Essa può sopprimere l'ovulazione oppure può agire sulla parete dell'utero e previene o disturba l'impianto. La seconda maniera è abortiva. Si può notare come tutte queste forme di aborto sono state etichettate semplicemente come contraccezione. La terza forma di aborto addirittura come contraccezione di emergenza. Gli impianti e i vaccini effettuano l'aborto con mezzi chimici. Gli impianti con metodi paragonabili ai metodi esposti sopra. I vaccini, nonostante i pericoli visti fin troppo chiaramente nell'epidemia di AIDS, attaccano il sistema immunitario del corpo. Il mezzo contraccettivo intrauterino ha la capacità di agire in una maniera contraccettiva o abortiva. Nel secondo caso esso procura l'aborto intervenendo tra l'utero e l'embrione. La fecondazione in vitro porta all'eliminazione di embrioni supranumerari o, come afferma il cardinale Ratzinger in La vita umana minacciata, frequentemente diviene l'occasione per l'aborto selettivo, quando ci sono gravidanze multiple indesiderate. Le statistiche mostrano che il 96-97% di tutti gli embrioni generati dalla fecondazione in vitro sono distrutti o periscono nel corso del trattamento. La forma più conosciuta di aborto chimico nell'ultimo periodo è effettuato dalla pillola conosciuta come RU486. La pillola viene somministrata solitamente nel secondo mese di gravidanza. L'informazione in questo paragrafo è presa da Medical Abortion, The Ugly Truth, del dottor Peter Dirty. Sebbene dobbiamo notare, riguardo al titolo di questo saggio, che il termine aborto medico è infelice per chi implica che il non nato debba essere trattato con la medicina ed è quindi una forma di escrescenza maligna. La RU486, quando assunta in dosi insufficienti, ha causato malformazioni molteplici del non nato. Se, come talvolta succede, è solo parzialmente efficace, e si deve essere seguita da un aborto chirurgico. Come afferma il presidente della compagnia che la produce, non è semplice da utilizzare. La donna deve vivere con il suo aborto per almeno una settimana. In aggiunta a questo trauma psicologico, i suoi effetti collaterali includono per la donna un grande sanguinamento che porta, in alcuni casi, a emorragie gravi, grande dolore e anche attacchi di cuore. Il saggio riferito nel presente paragrafo si conclude con la citazione seguente degli scritti di Gonzalo Herranz, un eminente bioeticista dell'Università di Navarra. Ciò fornisce un commentario adeguato sulla pratica di questo aborto chimico tardivo. Il significato di questo tipo di aborto è estremamente importante. Esso stabilirà come un fatto socialmente ammesso che l'embrione umano è un mero prodotto di scarto. Non solo l'embrione è ridotto a una cosa, spogliato di tutto il suo valore umano. Esso è ridotto alla condizione negativa di un escremento. Come un lassativo è capace di liberare un colon pigro dal suo contenuto fecale, così la nuova pillola renderà capace l'utero della gestante di liberarsi dall'embrione che cresce in esso. Selegato dalla madre attraverso un meccanismo efficace di competizione molecolare tra antiormoni e ormoni, è catapultato verso una rete di fognature attraverso l'azione di stimolatori specifici, prostaglandine, delle miosine uterine, l'embrione conclude la sua esistenza in un modo poco spettacolare. La trasmissione della vita umana, la capacità suprema del genere umano di procreare, per la quale si condivide il potere creativo di Dio, sarà convertita in una funzione di livello fisiologico, psicologico e morale, simile alla minzione o alla defecazione. L'aborto chirurgico è effettuato avvelenando il bambino, tagliandolo a pezzi, tritandolo o mutilandolo a morte da una macchina aspiratrice. Un metodo addizionale dell'aborto tardivo, che ha recentemente raggiunto una certa popolarità tra gli abortisti grazie alla propria velocità di esecuzione, è il cosiddetto aborto a nascita parziale, nel quale il corpo del bambino viene tirato fuori dall'utero fino al collo e, dopo l'estrazione del cervello per mezzo di una macchina aspiratrice e la conseguente implosione della testa, viene tratto fuori nella sua interezza. Questo tipo di aborto, come è stato osservato da altri, è per certi versi un infanticidio, sebbene certe altre pratiche comunemente descritte come aborto siano interamente un infanticidio, come quando i bambini disabili vengono fatti nascere per mezzo di un parto indotto e uccisi per fame, avvelenamento, affogamento o attraverso la dimozione del tessuto vitale del cervello richiesto per il trattamento di certe condizioni mediche, come il morbo di Parkinson, qui l'infanticidio viene mascherato da aborto proprio come l'aborto è mascherato da contraccezione. Il significato di tale imbroglio è spiegato successivamente. È difficile misurare il numero di aborti commessi ogni anno in tutto il mondo, sebbene la World Health Organization stima una cifra di 40-55 milioni di aborti in clinica e una cifra ugualmente alta potrebbe essere stimata per gli aborti conseguenti all'utilizzo dei mezzi intrauterini e della distruzione del non nato risultanti dalla fecondazione in vitro. Quanto agli aborti causati dalle pillole e dei mezzi chimici nel primo periodo della gravidanza, gli aborti della prima categoria discussa sopra, si potrebbero ragionalmente supporre che il loro numero ammontino a centinaia, migliaia o milioni di milioni per anno. Tale numero di vite umane distrutte ogni anno fa sembrare il genocidio di Hitler, stimato in 6 milioni, e di Stalin, stimato di 10-25 milioni, piuttosto insignificante e senza alcun dubbio eccede qualunque numero di vite umane distrutte da qualunque altro metodo nella storia del genere umano. Ciò che forse è più da rimarcare riguardo a questi numeri non è la loro semplice grandezza, ma la misericordia di Dio che permette che il mondo continui a esistere pur alla luce di essi. Grazie a tutti.